Vete vedere il braccio libero? Sì, grazie. Sono 116 le farmacie regionali presso le quali è possibile prenotare la vaccinazione per i soggetti compresi tra i 60 e 79 anni. Di queste, 45 sono già operative da ieri. Anche le farmacie Umbre sono infatti da ieri ufficialmente centri vaccinali anti-Covid-19. Ieri il primo cittadino Umbro è stato vaccinato con il monodose Johnson & Johnson. Si può prenotare attraverso l'Isee, cioè prenotazione in farmacia, quella classica. Viene data un orario di vaccinazione e il vaccino che praticheremo è il Johnson & Johnson, che è molto facilmente maneggevole e che ha bisogno di una sola somministrazione. Abbiamo 25 dosi che faremo in questa settimana e quindi prenderemo degli appuntamenti e cercheremo di vaccinare 25 persone. Poi dopo questo meccanismo, come ha spiegato il commissario straordinario, verrà esteso anche ai territori più, diciamo, più periferici, in modo tale da sfruttare la capillarità delle farmacie per raggiungere il massimo dei vaccinati possibile. L'elenco delle farmacie aderenti è consultabile al sito web www.umbria.federpharma.it alla sezione Servizi al cittadino o sulla pagina Facebook ufficiale di Federpharma Umbria, mentre le altre saranno operative dai prossimi giorni. I farmacisti Umbri sono stati debitamente formati tramite corsi teorici dell'Istituto Superiore di Sanità e con una formazione pratica svolta presso i centri vaccinali regionali alla presenza dei medici. Gli spazi della farmacia sono stati ridefiniti secondo legge, quindi avremo uno spazio per l'accoglienza e la compilazione dell'anamnesi per sapere se quel paziente può essere vaccinato in farmacia. Questo è importante dirlo, non tutti possono essere vaccinati in farmacia, le persone fragili che abbiano controindicazioni devono da noi essere rindirizzati agli hub vaccinali o dal proprio medico di medicina generale. A che punto siamo in Umbria? Si è conclusa la vaccinazione della fascia 59-50, i quarantenni che hanno dato la loro preadesione sono stati inseriti in lista di attesa, devono aspettarsi le SMS nel giro di qualche settimana? Confermo, già sono vaccinati i 49-40, già siamo partiti in alcune aree con i 49-40, stiamo completando gli ultracinquantenni, ma già siamo partiti in alcune aree dell'Umbria con i 49-40, verranno chiamati attraverso SMS, loro hanno aderito, cioè i soggetti che hanno aderito alla vaccinazione, verranno contattati tramite gli SMS e procederanno all'intervento vaccinale.